Scuola erogazionisti, secondaria di primo grado. La nostra scuola è attenta all'organizzazione dei percorsi formativi, educativi, didattici e culturali, propone risorse per il tuo progetto di vita. Gli insegnanti, attenti ad una relazione personale, gli ambienti accoglienti, il costante collegamento con le famiglie e con il territorio, offrono allo studente l'occasione di una vita scolastica serena e stimolante, indispensabile per raggiungere risultati di qualità. La nostra scuola ti offre tante opportunità. La scuola erogazionisti ti aspetta per offrirti una proposta formativa ed educativa, a pochi passi dalla fermata del tram Marcella. Vieni a trovarci! La scuola erogazionisti ti aspetta per offrirti una nuova scuola, offrono allo studente. La scuola erogazionisti ti aspetta per offrirti una nuova scuola, offrono allo studente. La scuola erogazionisti ti aspetta per offrirti una nuova scuola, offrono allo studente. E non sturdal, ma JIMOSTIGTO!